La contraddizione che magari non è tale, o meglio, magari va spiegata, riguardo a chi oggi scrive, quindi chi intende frequentare un corso di scrittura creativa, leggere un libro chiamato manuale sulla scrittura. Ora, secondo me ci sono due ordini, ben due ordini di problemi, o almeno di spiegazioni. Il primo è che una volta si faceva gli apprendisti di qualunque arte, quindi anche della scrittura, quindi da quel punto di vista la pretesa di originalità assoluta è in effetti un po' fuori anche dalla storia. D'altro canto, diciamo che il fatto di doversi adeguare a delle norme editoriali, redazionali e anche di ingredienti di scrittura, fa pensare che uno debba scrivere per forza. Cioè che uno non possa scrivere ciò che vuole. Anche perché alla fine chi veramente fa lo scrittore scrive ciò che vuole, cioè chi veramente ha scritto dei libri e continua a scriverli poi scrive ciò che vuole. Perché se non ha appunto impellenze di contratti, denaro o che so, allora scrive ciò che vuole, perché nessuno gli dice cosa deve scrivere. I lettori sostanzialmente leggono di lui tutto ciò che scrive, anche se come moltissimi casi non ha trama, non ha personaggi, magari addirittura non ha uno stile sempre simile al precedente. Insomma, ce ne sono moltissime di questi casi e quindi viene spontaneo a chiedersi perché uno non può scrivere ciò che vuole. Semplicemente perché si ha paura di non essere pubblicati e quindi in qualche modo si vuole trovare il modo di essere pubblicati. Ma in realtà appunto se non ci fosse questo problema, cioè se uno avesse la sua casa editrice o se li vuole pubblicare su Amazon, insomma che ricetta di scrittura deve seguire? Scrive ciò che vuole. Se poi non è successo, beh, vuol dire che non è uno scrittore evidentemente, ciò che vuole scrivere non è veramente ciò che voleva scrivere, sono quisquiglie. Quindi non è lo scrittore, quello che lui fa non è scrivere, è mettere su carta dei suoi pensieri senza motivo, senza senso. Quindi da qui l'idea che in effetti non ci sono ricette e anche se ci fossero, chi scrive preferisce non seguirle perché gli piace scrivere ciò che vuole scrivere, altrimenti perché dovrebbe essere obbligato a scrivere se non può scrivere ciò che vuole scrivere. D'altro canto capisco bene che come ogni arte, fin dalle gilde medievali, mettiamola così, ci sono delle botteghe quindi dei modi di apprendere una tale arte che non sono correttamente stati trasferiti naturalmente nelle scuole di scrittura creativa di oggi o nei manuali. Ecco, questo è da sottolineare però, d'altro canto anche chi parla di una originalità assoluta probabilmente non è uno scrittore ma appunto uno che vuole mettere su carta pensieri sparsi senza costrutto e senza appunto secondo me essere scrittore quindi voler veramente mettere l'anima in quello che scrive. Detto questo, uno in fondo può scrivere ciò che vuole, come dicevo, altrimenti non ci sarebbe motivo di scrivere per dover scrivere ciò che vuole qualcun altro, no? Ma pensiamo anche a molti scrittori che tutt'oggi scrivono, eh in effetti scrivono ciò che vogliono, c'è neanche una trama, i lettori leggono qualunque pensiero che esce da questi scrittori perché questi sono scrittori, cioè al di là che poi scrivono una trama con personaggi, una poesia, un poemetto, un pensiero, un incipit, un alforisma, quella è scrittura quindi non c'è bisogno di intrappolarla per forza per intrattenere il pubblico dentro una certa scatola che può essere un racconto, che può essere la poesia in versi, la poesia in stile libero, i versi sciolti, tante cose, ma poi in fondo con quello stesso pensiero si potrebbe fare anche un brano musicale, mettiamo, quindi secondo me è questo.